La campagna anche questa settimana continua ad essere fra quelle in Italia che meglio sta reggendo questa quarta ondata del virus. Cresce di un punto percentuale il ricovero nelle terapie intensive salendo al 5% ma nonostante ciò resta due punti sotto la media nazionale mentre per quanto riguarda le degenze la regione è in perfetta linea all'8% con il paese. Anche sul fronte dell'incidenza la campagna è messa meglio rispetto alla media nazionale dei contagi. A livello nazionale sono stati registrati 116,07 casi ogni 100.000 abitanti. In campagna si scende a 95,74. Fra le grandi regioni sempre la campagna è quella che è il minor numero di attualmente positivi che sono 16.249 di cui 15.925 in isolamento domiciliare ricoverati nei reparti Covid-193 di cui 25 in terapia intensiva e 298 in degenza. In questo scenario però d'esta preoccupazione la vicenda dell'uomo casertano tornato dal Mozambico risultato positivo, primo in Italia, alla variante Omicron. Sono state tempestivamente adottate tutte le necessarie misure precauzionali e si sta procedendo anche al sequenziamento del virus per verificare la sua natura con certezza, ha detto il presidente della giunta della regione campagna De Luca. Anche questo episodio ci invita ancora una volta, continua, a completare tutto il ciclo di vaccinazione e ad avere comportamenti ispirati alla massima prudenza. A cominciare dall'uso della mascherina che in campagna, giusto ricordarlo, è rimasto obbligatorio da sempre nei luoghi chiusi e all'aperto dove non è garantito il distanziamento. Si ribadisce, conclude De Luca inoltre, la necessità che venga esercitato massimo controllo da parte delle forze dell'ordine e delle polizie municipali, anche sanzionatorio, nei confronti di chi non ottempera all'osservanza dell'ordinanza regionale.